L'unica novità rilevante in circa un anno e mezzo dalla giudicazione della gara per la costruzione del ponte a scavalco sulla SP1 Traniandri è arrivata il 4 settembre del 2024 quando la provincia batta ha inoltrato alla regione il progetto definitivo per la cosiddetta valutazione preliminare sulla via e cioè la valutazione di impatto ambientale un documento essenziale per procedere alla realizzazione dell'opera attesa da 7 anni e per cui 5 anni fa c'è stato il via libera del finanziamento della giunta regionale di Puglia del ponte e di questa richiesta della provincia batta si parla in una determinazione dirigenziale del 7 novembre 2024 quando l'ente ha impegnato circa 400 euro per gli oneri istruttori della pratica una macchina burocratica e elefantiaca se si considera che a marzo del 2023 è stata giudicata la gara ed a maggio dello stesso anno è stato formalmente stipulato il contratto di appalto dopo che circa due anni prima era stato invece approvato un progetto definitivo dal costo complessivo di 3 milioni e 900 mila euro nei primi mesi del 2024 si è parlato di progetto esecutivo presentato dai soggetti vincitori dell'appalto poi però si attendeva la validazione da parte della provincia batte tutta una serie di documenti come la via di cui si parla in questa determina aspetto positivo è quello che non sarà necessario procedere successivamente ad alcuna procedura espropriativa visto che le aree su cui sorgerà il ponte sono tutte già di proprietà dell'ente l'opera lo ricordiamo fu stralciata a causa dell'aumento dei costi del corso dell'ammodernamento di circa 4 chilometri della provinciale lavori però terminati nel 2017 da allora si è tanto parlato di questo ponte soprattutto per i circa 300 imprenditori e coltivatori che lavorano nel territorio tra Andri e Trani e che sono costretti ormai da anni a tragitti più lunghi per entrare e uscire dalle loro proprietà non essendoci il ponte a metà strada ma nel corso degli anni l'opportunità data dalla regione con quel finanziamento da circa 4 milioni di euro non è stata sfruttata a pieno con uno svuotamento di risorse umane nella provincia che ha effettuato continui cambi di ruppe e componenti di commissioni grazie 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 grazie